E' arrivato il Natale e durante questo periodo da natalizio cosa si fa? Beh, si fanno tanti doni. Non a caso mi sono spostato da un ambiente troppo cupo e tech in un ambiente un po' più caldo, con tantissime palline, con un bel fuocherello dietro la schiena. Questo perché voglio parlarvi di una cosa molto bollente. E sì amici, finalmente sono riuscito a mettere le mani su una Canon R6 e voglio cambiare un pochino l'approccio delle mie recensioni. C'è tutta una fase quando io prendo una camera in prova che è quella del prendere la camera e mettermici con la camera in mano materialmente e cominciare a studiarla. Voglio provare a fare questa cosa con voi. Beh, allora, sono stato oggi dai miei amici di Fotoema che mi hanno dato una mano a realizzare questo video che mi hanno dato questa, che è una Canon R6. Corpo camera costruito decisamente bene da casa Canon ricalca tutta quella che è la famiglia nata con la EOS R e abbiamo sostanzialmente un corpo molto leggero da circa 600 grammi con un'ottima impugnatura ed ergonomia. Ora, feeling e design naturalmente è un corpo Canon quindi ha il design un pochino più bombato il feeling naturalmente è quello di un'ottima camera Canon abbiamo un'impugnatura ed un grip molto generoso che si tiene molto molto bene io in questo momento sto utilizzando una A7C in questo periodo una A7C dove il grip è molto ma molto meno prospero di questa infatti con questa mi sento molto più al sicuro a tenerla in mano questo perché ha un ottimo grip sul lato troviamo ben due slot per le SD cosa che ha fatto storcere tantissimo il naso con la EOS R adesso l'abbiamo recuperata perché abbiamo due slot per le memorie SD abbiamo sul retro lo schermino completamente rivaltabile EOS R che già ci aveva insegnato questa cosa l'articolazione è molto ben costruita quindi è abbastanza solida troviamo tasto di accensione e spegnimento qui in alto a sinistra poi abbiamo una ghiera per le modalità una rotellina di funzione ne abbiamo un'altra qui sopra e il tasto di scatto in alto sia il tasto di scatto che il tasto di registrazione sul retro invece troviamo il tasto per questa per esempio per me è una novità troviamo qui in alto a fianco al tasto del menu troviamo il tasto rate per marcare quelle che sono le fotografie migliori poi troviamo il comodissimo joystick la rotellina più grande, il tasto play, i tasti personalizzabili insomma quello a cui siamo abituati a vedere sui corpi Canon purtroppo causa Covid siamo costretti a non poterci divertire quanto vogliamo ma meglio la salute che altro risulta molto interessante sapete cosa? utilizzando la camera sia per fare foto che per fare video risulta parecchio particolare ed interessante il fatto che quando si passa da una modalità all'altra quindi da foto a video la camera mantenga sia le impostazioni per le foto l'ultima impostazione utilizzata che quella per i video c'è un'altra piccola cosa che non mi fa impazzire dei video il fatto che la camera non abbia dei codec selezionabili molto particolare quando apriamo lo sportellino troviamo il messaggio cifrato di casa Canon che ci dice che questa zona effettivamente va a riscaldarsi quando sottoposta ad un intenso utilizzo beh come sappiamo questo corpo macchina insieme alla sorella R5 ha il problema del surriscaldamento surriscaldamento che naturalmente essendo questo è un momento in cui studio il corpo macchina devo naturalmente prima testare per poi potervi dire se per me è un problema oppure no fatto sta che dall'utilizzo che ormai tantissimi fotografi e videografi ne hanno fatto in questo periodo se visto che la macchina è completamente utilizzabile soltanto in casi estremi si va incontro del problema del surriscaldamento parliamo di una nota che in tanti si aspettano la nota del surriscaldamento ora io sto utilizzando la macchina da diciamo un'oretta circa soltanto in 4k a 50 fps con Canon logo quindi sto registrando in 10 bit sulla scheda interna la sto tenendo sempre accesa e oltre al fatto che noto che praticamente la spia della macchina il timer della macchina della Canon mi dà come registrazione massima di clip 20 minuti quando sto in 4k a 50 fotogrammi non ho noto altre differenze anche perché provo a passare in altre modalità e comunque mi dà i 30 minuti di registrazione per clip cosa che conosciamo abbastanza cioè sappiamo che può fare clip da almeno 30 minuti fuori fa freschetto e non fa freddissimo fanno un 9 gradi che per essere a sud Italia sono tanti il corpo macchina al tatto è tiepido non è assolutamente caldo e non si vede assolutamente spia o l'ombra della spia del surriscaldamento io non penso che nell'arco di questi test di queste prove noterò la spia del surriscaldamento perché questo è un utilizzo normale della camera non esasperato non ho la camera da un'ora in registrazione ma semplicemente la tengo accesa in quella modalità e registro solo in quella modalità per concludere quelle che sono le dotazioni del corpo macchina vado ad aprire tutti quelli che sono i gommini laterali sempre fatti male porca miseria perché una volta che ho stack un gommino del genere per aprire una porta mi devo tenere sto gommino alto così svolazzante per esempio Sony ha fatto una cosa intelligentissima quello di fare degli sportellini che sono molto più comodi vabbè troviamo ingresso microfono uscita cuffie controllo via telecomando porta USB tipo C che serve sia a ricaricare che a trasferire dati e una porta HDMI out mini ora in molti leggevo che si lamentavano della grandezza dell'HDMI che non fosse full ma questa è una macchina fotografica non è una videocamera partiamo sempre da questo presupposto questa macchina nasce per rifotografia un po' come tutte le macchine fotografiche e soltanto pochi modelli nascono con l'obiettivo di essere delle videocamere questa è una macchina fotografica che può essere utilizzata anche dai videomaker molto di più l'R5 è dedicata anche ai filmmaker l'R6 secondo me è considerata più un ibrido tra il video e la foto dovrebbe essere quello che Canon vorrebbe creare il giusto ibrido giusto ibrido perché? da un sensore da 20 megapixel che non sembreranno tanti ma invece è un sensore di ultima generazione ed è quello della 1DX Mark III Ammiraglia Reflex di casa Canon e monta lo stesso identico sensore quindi troviamo un sensore full frame davvero che spacca tantissimo e che gestisce bene anche le basse luci non ai livelli della Sony A7S III purtroppo il paragone viene molto facile ma no, non gestisce a quei livelli lì perché sono due tecnologie completamente differenti ma le immagini ad alti ISO possono essere utilizzate queste le ho provate prima di poterle parlare perché ho fatto qualche clip di test e ho notato che ci si può spingere più in là io per esempio non vado mai oltre i 6400 ISO quando utilizzo una camera per far qualcosa però se già ci spingiamo ai 12000 comunque si perde un po' di nitidezza ma comunque le immagini sono utilizzabilissime oltre a un modo non mi spingo neanche a testare perché non penso che siano dei casi molto limiti quelli dell'utilizzo oltre i 12000 ISO quindi il test tendo a non farlo proprio perché io almeno le camere in quelle condizioni ne le utilizzerò mai ora per esempio salgo dato che sono completamente al buio a 12800 ISO e faccio qualche scatto e poi ve le mostro qui a schermo facciamo qualche scatto a 12000 ISO così posso mostrarvelo molto particolare lo scatto in mano di Canon è sempre bello il suono e il feeling dello scatto sono sempre qualcosa di speciale non so perché quando tengo in mano una Canon anche se è una mirrorless non mi sento di rinunciare a nulla come corpo macchina quando parlo di mirrorless io penso sempre a un corpo un pochino più piccolo ma ho provato le Panasonic le ho tenute in mano e sono grosse ho provato le Canon e sono grosse le Nikon e sono grosse le uniche che mi vengono da dire che sono mirrorless sulle Sony perché mi sembrano più piccole mentre con queste mi sento comunque di dire di avere un corpo molto solido proprio perché è grosso molti ritengono l'autofocus dell'R6 o di Canon almeno per la parte video probabilmente uno dei migliori autofocus sul mercato e questo è vero non posso negarlo che è uno dei migliori autofocus sul mercato ma probabilmente proprio questa volta se la batte molto ma molto con l'autofocus di Sony provandolo proprio materialmente io sento la camera in mano la provo proprio materialmente mi sa tanto che in molte circostanze quella che funziona meglio sarebbe stato proprio l'autofocus di Sony anche se il dual pixel autofocus di questa R6 è davvero fenomenale ma se devo essere proprio sincero ogni tanto sento che l'autofocus Sony avrebbe fatto meglio ecco, quello è il problema sto utilizzando in un ultimo periodo Sony quindi sconosco i momenti dove Sony può essere forte col suo autofocus e quindi riesco a creare la differenza il dual pixel autofocus di Canon io lo utilizziamo anche su altre camere e lo utilizzo quotidianamente anche su altre camere e mi dà tantissima sicurezza ma sembra che sia diverso nella R6 forse sia migliorato forse è una questione di percezione probabilmente il fatto sta che l'autofocus è ottimo quello di Canon ma l'ha provato ancora meglio è probabile che la mia percezione o sensazione sia dovuta al fatto che sia Sony ad essersi avvicinata molto all'autofocus di Canon e non il contrario nota, abbiamo parlato del sensore prima da dire che questo è un sensore stabilizzato finalmente Canon introduce nella sua gamma di full frame anche i sensori stabilizzati ma andiamo a vedere un pochino quelle che sono le cose che più interessano a me le opzioni di ripresa perché sono quelle che interessano tantissimo a me dove io testerò questa macchina perché se devo pensare di prendere questa macchina per poterla utilizzare per lavorare allora la mia scelta naturalmente ricale sul fatto che io devo capire quali sono i suoi limiti allora in primis abbiamo la possibilità di poter scegliere partiamo dal più scrauso full HD a 25p in all intra probabilmente codifica leggera, codifica standard allora abbiamo un full HD a 25 a 25 sempre a 50 e probabilmente qui abbiamo la possibilità di andare a selezionare il frame rate variabile perché so che questa camera ha il frame rate variabile frame rate alto possiamo attivare il frame rate alto ed arriviamo in full HD a 100 fotogrammi al secondo una cosa che posso dire è che l'autofocus funziona egregiamente riesce a prendere l'occhio in questo caso del mio gatto e soltanto nel momento in cui l'occhio viene coperto riesce a selezionare quello che è il viso quindi tracking completato abbastanza bene certo il test è proprio fallace dal momento dell'utilizzo dell'altro frame rate semplicemente perché è completamente buio il mio gatto quindi possiamo arrivare fino a 100 fotogrammi al secondo in full HD ma qui non mi è specificato e questo mi dispiace un pochino il tipo di codifica di sicuro una cosa che mi crea un po' di confusione in Canon R6 è il fatto che non posso scegliere bitrate Canon R6 ha la possibilità di registrare sia in H.264 che in H.265 ma non ho la possibilità di poter scegliere quando e come utilizzare uno o l'altro la possibilità mi è bloccata dal fatto dall'utilizzo o meno del Canon C-Log infatti se utilizzo il Canon C-Log posso girare in H.265 a circa 320 Mbps al secondo quando vado a 4K a 50 fps mentre a 240 Mbps se giro in 4K a 25 mentre se giro con i profili colore normali quelli di cui siamo abituati di casa Canon girerò necessariamente in H.264 a 240 Mbps in 4K a 50 la metà in 4K a 25 abbiamo la possibilità di registrare il video in modalità HDR che è un formato diciamo differente rispetto al Canon C-Log ma che comunque ci dà la possibilità di espandere la nostra gamma dinamica io preferisco il Canon C-Log per una questione comunque di utilizzo del log all'interno della camera e perché così mi dà la possibilità di poter registrare in H.265 in 10 bit perché è l'unico modo per poter utilizzare i 10 bit di questa camera internamente abbiamo la funzione di ritaglio dell'immagine che praticamente mi permette di rendere il mio sensore un APS-C allora vi faccio un esempio questo è un 24 mm senza il ritaglio dell'immagine e questo invece è il 24 mm con il ritaglio dell'immagine quindi probabilmente abbiamo un crop di circa 1.5 che ci permette di utilizzare l'estensione del sensore quando per esempio lavoriamo in Full HD quindi non utilizziamo tutto il sensore per poter andare a croppare all'interno e così siamo giunti alla conclusione anche delle mie opinioni della mia personalissima recensione su questa Canon R6 tirando le conclusioni Canon ha fatto un ottimo lavoro quella che ha avuto tra le mani è sostanzialmente una Canon EOS R evoluta evoluta sotto tanti aspetti l'autofocus è molto reattivo il corpo camera è davvero molto ben bilanciato è stato fatto qualche cambiamento sul corpo macchina molto bene apprezzato e ha quelle caratteristiche dedicate ai videomaker che non sono assolutamente male certo come già detto non è un corpo esente da eventuali problemi questo perché quando si vuole cercare di realizzare il giusto bilanciamento tra utilizzo in fotografia e utilizzo in video naturalmente ci devono essere dei compromessi ma i compromessi fatti da Canon sono assolutamente trascurabili per chi è un professionista e utilizza il corpo macchina per fare fotografia e all'occorrenza ha necessità di dover utilizzare lo stesso corpo anche per fare video in quel caso quel corpo macchina diventa l'ibrido davvero ideale per qualsiasi foto-video maker sì ho fatto nascere questa nuova categoria perché se devo consigliarla a qualcuno consiglierei la Canon R6 a tutti i fotografi che hanno bisogno di fare un upgrade da una 5D Mark IV che ha una EOS R e ha bisogno di un po' di prestazioni in più sotto il lato video di sicuro questa è la camera che fa per loro quindi Canon R6 pienamente promossa io voglio di nuovo ringraziare i miei amici di FotoEma che mi hanno dato la possibilità di provare questa camera vi lascio qui sotto in descrizione il loro link dove praticamente potete trovare qualsiasi cosa legata al mondo della fotografia e del video making siamo giunti alla fine cos'altro dirvi? se il video vi è piaciuto e vi è risultato utile lasciate un bel mi piace se avete delle domande potete scrivermele qui sotto nei commenti non dimenticatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ed attivare la campanellina ed inoltre seguitemi anche su Instagram dove pubblico tanti contenuti interessanti e molte volte pongo delle domande proprio sui corpi macchina che sto provando per fare dei test specifici da presentarvi poi qui su YouTube quindi cos'altro dirvi? io vi ringrazio per la visione noi ci vediamo in un prossimo video e vi ringrazio per la visione e vi ringrazio per la visione